Dari del terzo G del Fermi di Frascati, oggi abbiamo vinto questa gara di Hager contro Hager, è stata un'esperienza bellissima anche lavorare con questi ragazzi e sicuramente continuerò a studiare la sicurezza informatica nel futuro. Io sono Giulio De Sanctis del terzo C della Scuola Artistica Caravaggio, è stata un'esperienza formativa interessante, ci ha aiutato a capire che comunque non si è veramente mai al sicuro sull'internet e che bisogna sempre stare attenti alle informazioni che postiamo, è stata davvero una sfida interessante da svolgere con questi nuovi compagni e sicuramente è una vittoria meritata la nostra. Io sono Andrea Cornelio della Quinta Scientifico del Liceo Bagatta di Brescia, è stata una sfida molto interessante sia per quanto riguarda la ricerca delle informazioni e del lavoro in gruppo, sia perché nell'ambito liceale non vi è molta pratica di materia informatica così ed è molto interessante vedere come esse si rapportino col mondo. Sono Giorgia Raffelli del quinto B delle Scienze Umani di Fermo e torno a casa orgogliosa e arricchita da questa esperienza soprattutto perché sono una ragazza che non ha mai studiato informatica o niente del genere, però è comunque importante informarsi sulla sicurezza e questa esperienza dimostra che non serve chissà quale conoscenza per trovare informazioni su internet. Sono molto molto contenta di questo traguardo perché ho una sorella maggiore che si sta specializzando in cyber security e quindi credo sarà molto orgogliosa anche lei. Sono Emanuele Papi, da Tommaso Salvini, la Quinta D. So che oggi, nonostante io studi informatica, mi sono divertito molto, ho legato nel mio gruppo e sono felice di aver fatto questa sfida. Nonostante avessi un po' di timore stamattina, però sono felice del traguardo raggiunto e spero di avere altre occasioni nella cyber sicurezza.